È tempo di Weekly Notable. Scopriamo quali squadre hanno alzato l'asticella questa settimana. Finale di Coppa Italia e semifinale di campionato da neopromossa. In battuta e in vetta alla classifica dopo quattro giornate nella sua seconda stagione in A. Tortona continua la sua prepotente ascesa ai vertici del basket italiano. Talento, leadership condivisa e tanta attenzione alla difesa. Non a caso, la migliore del campionato. Il ruggito dei leoni fa sempre più paura. Avviso per i tifosi di Brindisi. Astenersi dalla visione delle partite se si ha il cuore debole. Su quattro gare stagionali, per tre volte la sorte dell'Epicasa è difesa dall'ultimo tiro. Ma stavolta, dopo le beffe di Verona e Milano, è stato l'errore di Brescia sull'ultimo possesso a dare al finale di partita tutto un altro sapore. Miglior viatico dopo una settimana europea complicata non poteva esserci. La Virtus fa la voce grossa contro Treviso con una prestazione da libro dei record societari. Eguagliato quello delle schiacciate, con sette palloni affondati nel canestro della Nutribullet. Avvicinati quello degli assist con 26 e quello della valutazione totale con 132. L'esercizio di Brescia L'esercizio di Brescia L'esercizio di Brescia